. Anticipazioni GF VIP 2, Rosa Perrotta ci sarà? L'indizio. . Rosa Perrotta al Grande Fratello VIP 2017? Lo Scoop. Nonostante il settimanale TV Sorrisi e Canzoni abbia svelato qualche giorno fa l'esclusione di Rosa Perrotta dal cast del GF VIP 2, pare che non sia detta ancora l'ultima parola. . . Il motivo? In pratica, nella giornata di ieri, le pagine social del reality VIP, condotte da Ilari Blasi hanno pubblicato alcune foto dei futuri concorrenti oscurandone la faccia. . . E le tantissime estimatrici della ex-tronista di Uomini e Donne, guardando le varie immagini pubblicate sul social dalla redazione del Grande Fratello VIP, hanno immediatamente notato un'importante particolare, una delle concorrenti a un neo sopra il seno. . . Guarda il caso lo stesso neo che ha anche la ex-tronista Partinopea. Ovviamente, nemmeno a dirlo, le sue estimatrici, dopo aver notato questo importante particolare, si sono riversate su social, chiedendole delucidazioni. . . Purtroppo però la giovane ha glissato sapientemente qualsiasi domanda su questa faccenda, alimentando ancora di più il dubbio nelle sue supporter. . . Davvero la fidanzata di Pietro Tartaglione entrerà nella casa più spiata dagli italiani? Oppure è stata una mera casualità? Chissà, intanto le sue estimatrici, ovviamente, hanno iniziato a sperare di nuovo. Anticipazioni Grande Fratello VIP, Rosa Perrotta nel cast. . Ma chi è Rosa Perrotta? Per i pochi che non lo sapessero, lei è stata l'ultima tronista del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. . A lungo è stata nell'occhio del ciclone per via delle tante segnalazioni arrivate in studio, ma anche per via della sua rivalità con l'altra tronista. . E proprio con quest'ultima si è a lungo contesa il corteggiatore Mattia Marciano, il quale dovrebbe diventare il nuovo tronista nella prossima edizione di Uomini e donne. . Comunque sia, alla fine, Rosa Perrotta ha scelto il bell'avvocato Pietro Tartaglione, con il quale ha iniziato una bellissima relazione. Ma le buone notizie per la giovane potrebbero non essere finite qua. . Difatti, in base alle ultime anticipazioni del grande fratello VIP 2017 circolate in rete, potrebbe entrare nella casa più spiata dagli italiani. Però potrebbe non essere l'unica ex protagonista del popolare dating show a varcare la famosa Porta Rossa. . Infatti la ragazza potrebbe ritrovarsi anche Luca Onestini, con il quale ha condiviso il trono classico e Giulia De Lengis. . 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